. Dakota Johnson ha cena con Sherice Martin, nuovo amore in vista? Tra le star internazionali nascono ogni giorno nuove storie damore e nuovi flirt. . Questa volta i due innamorati potrebbero essere Dakota Johnson, attrice di 50 sfumature di grigio e testimonial per Intimissimi, insieme a Sherice Martin, il sex symbol della musica. A quanto pari due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti confidenziali in California, durante una cena romantica. . Al momento non sono pervenute ulteriori notizie che possano confermare o smentire il loro rapporto e intanto i fan delle due star, non stanno più nella pelle per scoprire se si tratti di vero amore o solo di una amicizia. . Dakota Johnson e Sherice Martin, galeotto fu il giapponese. Il ristorante era giapponese, la cena era a Los Angeles e i due presunti innamorati erano la star della saga 50 sfumature, insieme al leader dei Coldplay. . Secondo la rivista People, Dakota Johnson e Sherice Martin sarebbero stati visti in atteggiamenti confidenziali, mentre consumavano la cena l'uno in compagnia dell'altra. . . . . . . . . Sembravano una coppia affiatata, ma in realtà i problemi che li riguardavano erano diversi. . Così dopo quasi undici anni di matrimonio, Sherice Martin e Gwyneth Paltrow avevano deciso di divorziare in modo ufficiale, malgrado la nascita di ben due figli. . Secondo quanto l'attrice aveva rivelato alla stampa, i motivi della rottura riguardavano l'impossibilità di avere delle proprie esigenze. . Per una vita intera infatti, ha pensato agli altri, cercando di esserci in ogni situazione, ma arrivata ad una certa età ha compreso che era il momento di pensare a se stessa, a ciò che voleva dalla vita e che cosa la faceva stare bene. . . . . . Aveva deciso di cambiare era quindi il suo matrimonio, causando non pochi traumi ad entrambi. In seguito ha iniziato un percorso per riscoprirsi come attrice, ma anche come imprenditrice.Il divorzio ha scioccato entrambi gli ex coniugi e la stessa Paltrow in alcune interviste rilasciate in seguito alla rottura, aveva dichiarato il suo rammarico per quella scelta. Così due avevano deciso di continuare a vedersi, senza tagliare in modo definitivo i ponti. La loro compagnia è stata così frequente che molti pensavano ci potesse essere addirittura un ritorno di fiamma. Dopo il periodo di depressione del cantante, ora si può tornare a guardare verso nuovi orizzonti e non si sa mai che il suo percorso lo porti proprio in direzione della bella e sensuale Dakota Johnson. .